Ciao, sono il nome dello Stefano, titolare dell'ASM. Lavoriamo la vetroresina a 360 gradi a livello industriale e a livello di arredamento in base alle richieste dei nostri clienti. Ci occupiamo di lavorazioni artistiche come quadri, vasi, tavoli e tante altre cose molto particolari. Facciamo inoltre lavorazioni industriali e le lavorazioni su facciate di capannoni o di esercizi commerciali. Un'altra tipologia di lavoro che facciamo sono dei pezzi per delle navi, navi che per il momento sono navi da guerra e speriamo di riuscire a entrare anche nella cantieristica. Questo materiale potrebbe prestarsi benissimo per proporre delle cose nuove, particolari e molto personalizzate, visto che il materiale si presta benissimo a fare delle lavorazioni ad hoc per i gusti delle persone, come colori, come forme, come dimensioni e tutti i pezzi fatti praticamente su misura. Venite a visitare il nostro showroom, siamo nella zona industriale di San Mauro di Pavia di Udine e c'è una vasta esposizione di cose che possono far capire quello che si è in grado di realizzare.